Salve a tutti voi. In questa puntata parliamo di come INAIL aiuta le aziende che fanno degli investimenti sulla sicurezza sul lavoro. Si tratta di una cosa molto importante che recentemente aiuta in particolare le aziende piccole. I sistemi con cui INAIL aiuta le aziende per la sicurezza sono due. Uno si chiama OT24 e consiste in uno sconto sui contributi che le aziende devono pagare ogni anno sul periodo di lavoro già fatto. Con l'altro sistema, ISI, investimenti per la sicurezza, le aziende che intendono fare un investimento significativo per migliorare le condizioni di lavoro, fanno una domanda all'INAIL che se ritiene adeguata la documentazione concede un finanziamento fino al 65% di questa spesa, quindi un finanziamento sicuramente molto rilevante. L'INAIL dell'Emilia Romagna ha appena organizzato un convegno su questi temi e abbiamo intervistato per voi i relatori. L'investire in sicurezza è realmente un investimento, non è una perdita perché aumenta anche la competitività, si evitano problemi di sostituzione del personale che dovesse in qualche modo avere dei problemi e quindi l'azienda riesce ad essere ancora più competitiva sul mercato. Questi percorsi di aiuto e sostegno alle aziende già da tempo avvengono all'interno dell'Istituto. Basti pensare all'articolo 24 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi che in gergo è chiamato l'Otti24. Per tutte le aziende che hanno il quid pluris in ordine alle misure di sicurezza c'è un ulteriore contributo che si risolve in una riduzione percentuale del tasso di premio da pagare all'Istituto. A questo si affianca tutto il percorso dei finanziamenti ISI che già dal 2010 adottiamo nei confronti dell'azienda che adottano misure di sicurezza per l'azienda e anche sistemi organizzativi volti a migliorare le condizioni di sicurezza. Sono dei grossi aiuti che possiamo dare in un momento così delicato, un momento in cui l'ente pubblico e le amministrazioni pubbliche devono essere al fianco dell'azienda per creare le condizioni di sviluppo e di miglioramento anche delle condizioni di sicurezza. perché chiaramente quando parliamo di infortuni parliamo sempre di numeri e di cifre che lasciano veramente pensare che dobbiamo fare qualcosa in più. A presto di infortuni parliamo sempre di sicurezza. Io abro la cartiglia, leio tutti i giorni e sempre che possibile troco idee con il patrò Informazione è importante, è solo un instante e tutto il mondo è preparato Il investimento è quasi nada, se comparare al pregiudizio di un funzionario accidentato Com prevenzione è che si fa, con sicurezza nel lavoro io vorrei stare in pazza Com prevenzione è che si fa, un accidente infelizmente non volta a lì Com prevenzione è che si fa, un accidente no lavoro non più Capacente nella cabeça non esqueci la luva, la sicurezza nel lavoro è così che si fa E se cair può chebare, se cheimare può essere fatale Sem equipamento adequato sempre acaba mal, do local di lavoro para o hospital Dopo di feriti, alguns enxerga una real, se tem risco tem che ter conscienza E se è la pelle del operario che si fa, un accidente infelizmente non volta a lì Tem che usare equipamento, buscando il suo sustento Mesi già da sua firma um treinamento, con prevenzione è che si fa Acidente no lavoro non più, capacete nel lavoro non più Capacente nella cabeça non esqueci la luva, sicurezza nel lavoro è così che si fa I progetti ammessi a contributo sono progetti di investimento, i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale I progetti per la sostituzione e l'adeguamento di attrezzature messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 Con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al titolo 3 del decreto legislativo 81 del 2008 Il stanziamento previsto per la regione Emilia Romagna è pari a circa 20.890.000 euro Di cui 20.120.000 euro circa per i progetti di investimento, di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale E 770.000 euro circa per i progetti di adeguamento o di sostituzione delle attrezzature messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 I destinatari del finanziamento sono tutte le imprese, anche individuali, senza dipendenti Che sono iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato Che hanno un'unità produttiva attiva nella regione Emilia Romagna Il finanziamento dell'istituto copre il 65% delle spese ammesse al contributo al netto dell'IVA Con un limite minimo di 5.000 euro, tale limite minimo non esiste per le imprese fino a 50 dipendenti Che presenti in un progetto di adozione di modelli organizzativi o di responsabilità sociale E un limite massimo di 130.000 euro queda brevemente massimo di tutelare Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.